gente che deve entrare in site io siedo qui da dove va che gliel'hanno tirato? da dietro da dietro gente che deve entrare in site da qua penso oh guardate qua dai andiamo però non lo vedo non lo vedo sto aspettando di vederlo si si aspetto di vederlo sono a piastre che stronzo autotaglia qua da noi camion auto esplodere vederlo neutralizzato pittato vederlo neutralizzato vederlo neutralizzato vederlo neutralizzato vederlo io dai nemo dai nemo 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 anche la nostra macchina non è ben sabana tenetemi a posto un attimo che lutto colpi salvo io la lascerei la macchina comunque raga se ci cominciano a sparare con il mio una mitragliatrice eh io no io vado con la macchina state serve il tutto vostro serve il UAV serve il UAV raga perchè c'è 100 soldi da voi vedi? andiamo andiamo cambio posizione compra a totti vi lascio i soldi fai cambio posizione lo fai dopo lo fai dopo caricali orcocca è qua altissimo dai da questa parte lancio una sorda lancio una sorda lancio una sorda attaccato bella 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 grande adesso oh ma non dovevi chiamarti deja vu te deja dovevi chiamarti deja steel cosa? non dovevi chiamarti deja vu dovevi chiamarti tipo steel vu oppure deja steel il ladro il ladro c'è un altro trophy qua se lo prendete ci siedo qui qua perchè c'è il mio su se riesci a metterlo dietro buff ragazzi vado in vado un sistema trophy è albò a bordo ora andiamo verso il centro della safe adesso ora guarda quando dite voi mi fate fare una kill magari raga iniziamo ad andare sulla vela cosa dite? hm io andrei sopra la train piuttosto raga uno davanti a me davanti a noi davanti a noi col team sopra la train non è molto raga sopra 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 raga si c'è un'altra macchina qua full hp c'è un altro trophy un attimo perché io riuscendo la raga e tutta la mia raga da dove bordo? non ho le piazze 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 non dirmi che è la mia cos'è sto casino raga cos'è sto casino cos'è sto casino? dai mi avete luttato raga volevo provarmi la nuova maschera c'è ancora sparano ancora da lì eh? sparano gente a destra oh chi è che fa casino? diablo sentiamo tutto quello che succede in casa tua chi se ne è? chi se ne è? è tornato parla da là ancora compagno a te porto a borsa trubola che resta ti resta ti resta porto mi doi stazione medica qui? ciao mi doi io tieni tieni ancora 2 mila vai ti tiro qua una cassa di piastra va bene il volante raga proprio così stai lasciando un botto di piastra oh raga qua la piastra è deciso ah no me l'avete presa raga andiamo sulle vele meglio adesso io andrei qua piuttosto buffo nelle vele sai eh ho capito ma dopo dobbiamo spostarci verso le vele per fare tutto il pezzo dopo no 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 dopo basta che noi ci droppiamo con paracca col paracca tutte cioè per me è una cazzata come vuoi te ehm no possiamo anche andare sulle vele non so è troppo in centro dai decidete decidete voi ragazzi mi date solo e mi compro la torrassa sto sto prendi mi rispondete? allora io io dove volete andare? date una votazione vele o train station io sinceramente andrei qua vado qui perchè i 3 station ci possono salire da troppe visi no 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 andiamo bene andiamo però quella casa è una merda andiamo sulle vele poi ci droppiamo lì che rimaniamo visi eh ma la vele non è nel in safe poi rischiamo che ci fanno come i piccioli si si no no le vele sono più alte però il vantaggio è quello esatto esatto andiamo 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 scendete qua la train possono salire da troppi punti raga avete il gas in arrivo il problema delle vele è che siamo stra vulnerabili ai precisi ai bombardamenti poi c'è gente un team intero un team intero delitto poi non aravatele fuori non ci detteli vi prego fatele fuori tutti fate tutti oh per l'ultimo oh non prendete la mia logo baffo non prendere la specialista grazie zio dai baffo dai ma stessi che schifo ti voglio bene amico mio ti voglio bene si si oh diablo diablo veramente non riesco a sentire un cazzo te lo giuro non è cattiveria eh tu la metti il push tolco non lo so desia si può droppare sta roba no vero? qui c'è un bersaglio devo chiatare a tutti i costi grande adesso almeno ricarico veloce il pompa c'era un full team comunque per questa vela si si ma sei molto svegli orco caio adesso non ho neanche load out no? almeno così avevo i perk eh oh zio non ti ho pensato mi ha sparita anche la maschera d'oro no prendila prendila dai il mercato dell'equipaggiamento maschera anti gas ricevuto no rimettete giù la maschera d'oro per dire ragazzi ce l'ho ce l'ho mi ha sparita anche la sacca la sacca io non ho la sacca io non ho la sacca io non ho mi era sparita la mia prima ma la sono in retraccia no no io ho preso solo il perk e la maschera d'oro che rimetto giù la gente raga io i compagni non penso di non luttarli mai sinceramente dai dillo a boff orcocca un bello verso le squadra no? no 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 il compagni non muore fuori i stealth e quindi non ritorco quindi se luttano ah io adesso mi vado a prendere quello io vado a prendere fantasma ah fantasma non lo voglio mi vado a prendere a rest off io se l'ho prenduto ah non sono io che è venuto a tutti io lo devo prendere sono molto paura raga mi fanno il culo da dietro io li copro quello che posso oh davanti a me davanti a me davanti a me cecco manca là eh vabbè pure da destra da destra e dalle colline da destra e dalle colline c'è uno qua c'è una mazzeria 待...... con il gara gt è una mazza che fu arrivata mazza che fu arrivata c'è una mazzeria Mi mirano anche dal monte Oh ma avete gente sopra? Vabbè, questi ci devono venire tutti Grappalo, grappalo per noi occhio Sotto di noi abbiamo gente Sì, sì, siamo tirati da sotto Vabbè, tanto basta coprire le scale, per esempio Eh, c'è anche il cavo, no? Vabbè, il cavo, ora che salgono, sono morti Secondo me Il cavo c'è solo da diavolo, cioè Io non c'ho il cavo Dai, dai, sul tetto questo qua, vi ricordo che c'è gente Sì, è rispettato Sono droppati Si sono droppati Sopra, sopra train station Sì, sì, ma per i treni arrivano tutti adesso Se li facciamo tutti mentre crossano Traccato uno A terra Bombardamento di precisione alleato, attenzione Ah, è vero che avevo anche il bombardamento No, il bombardamento non te l'ho preso io adesso, eh Te lo dico A terra un altro qua E tu muovi me qui Finisci, finisci quello, se riesci Un colpo, eh C'era un altro, sua compagna Raga, questi qui ci devono venire tutti in bocca, tanto, tranquilli Occhio da destra, spara un sacco di gente sopra tre, no? Arriba il gas Questo qua Occhio ci devono venire in bocca, ci devono venire in bocca, devi saprare C'è gente anche nel fumo, che spara, li vedo Ma che si droppa quello adesso A terra L'ho tirata lì, l'ho tirata lì, zio C'è anche a destra No, ma chiude sotto di noi, sotto di noi c'è gente C'è troppo atto il tizio, non ci credo Deve fare adesso, zio Vedo un movimento C'è questo in capoporta Contatto Meno, vincaci i nemici, arriva Tascato, morto Mi colpiscono C'è un cecchino che ti sta parando, da dove? Nuova, zona scura, individuata Qua, qua Oh, uno qua sotto Sì, lo vedo Taccato Morto Guardi, che mira di merda Oh, raga, qui c'è una cassa di muni, eh Io, io Per dopo Vabbè, loro le droppo tutte per terra le muni, così Dopo le rirassolgo Sette posto Oh, c'è uno davanti Uno qua anche Un team è lì, un team è lì Ah, l'ultimo team, eh Sono le ultime persone È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero Dovano arrivare tutte da noi, dovano arrivare, raga, questi Dovano venirci tutti in bocca, raga A terra Bombardate quello lì, bombardate quello là Quasi, fate un altro Mi hanno capito Traccato un altro qua sotto Raga, dove? Due, sono a terra Vino No, dai Vino, dietro Finito quello Gli altri sono sotto Cinque rimasti Vedo un movimento Gas in movimento Non lo faccio nessuno, individuato Sì, davanti Sì, mati Beh, scato Ben fatto Bravi, bravi, bravi GG Di modi, guardi i miei danni, guardi i tuoi Non lo faccio Ehi, vai, scato Ai, scato Sì, è vero